Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tutti voi conoscete i giorni della settimana in inglese, ne sono certa. Ma io oggi vi insegnerò i giorni della settimana in italiano. Ciao a tutti, sono Irene e bentornati nel mio canale Italian with Irene. Per chi non mi conoscesse già, insegno italiano su italki. Vi lascio il collegamento al mio profilo qui, nel box qui sotto. Ma non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito. I giorni della settimana in italiano. Lunedì, lunedì. Martedì, martedì. Mercoledì, mercoledì. GIOVEDÌ, giovedì. BENERDÌ, venerdì. SABATO, sabato. DOMENICA, domenica. Ripetiamoli insieme tutti in una volta. Spero che il video di oggi vi sia stato utile. Non perdete il video della prossima settimana, perché vi insegnerò i mesi dell'anno. Non dimenticatevi, inoltre, di mettere un like al video, condividerlo con i vostri amici e iscrivervi al mio canale. Vi ringrazio. Ciao! Ciao!